E c'erano due tedeschi e due della Repubblica di Salò. Ci chiamavano uno a uno, te che sei per Badoglio o per Mussolini? E c'è Basilio, c'è Basilio! La sensazione che mi dissero subito, perché era morto il più vicino, quello che aveva 16 anni e morì a casa. Io avevo girato mezzo mondo, me l'andava sempre bene, quello a casa e morì. A presto, a presto, a presto! Grazie a tutti.